Ciao ragazzi, io sono Stati Invece e volevo darvi un'importante annuncio per un video, però questo sarà un vlog cortissimo. E volevo dirvi che forse chiederò il canale, quasi nessuno non vede i miei video, credo, perché forse farò il video con i gameplay, con la web. Però, devo scaricare una cosa e mia madre non mi lascia, per questo aspettate un poco e dopo forse lo farò. Questo video è solo un piccolissimo video, forse non durerà nemmeno 5 minuti. Però scusatemi che forse chiederò il canale e non farò un video mai più, ma se mia madre non mi lascerà scaricare questo, chiederò sicuramente il canale. E per questo volevo darvi questo annuncio, se riuscirò a far, se riuscirò, se mia madre mi lascerà scaricare questo, dopo farò molti video di Happy Wheels. Un po' di tempo farò giochi online, e forse dopo farò i giochi scaricati, non è sicuro. Cioè, solo se riserverò i problemi al mio computer. Volevo darvi questo piccolissimo notizio. Niente di che. Cioè, vi avevo detto che farò il conto Facebook, però il conto non uscirà. Ho qualche problema nel farlo, per questo, se volete cercare a chat in quel su Facebook, sarà inutile. E per questo, volevo soltanto darvi questi piccoli annunci. E, bella ragà. Ciao!